Ciao, grazie di essere con me oggi oggi farò un video di suoni molto semplici senza parlare perché voglio fare un video che possa essere utile per chi studia, lavora e debba ascoltare semplicemente qualcosa in background quindi spero di esservi utile l'unica cosa che voglio dire, lunedì uscirà il video home tour quindi siate sicuri, attivate la campellina, segnatelo sull'agenda, non vi interessa stay tuned ok, state connessi che lunedì arriva l'home tour lo speciale tanto richiesto, tanto atteso ok, cominciamo ok 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.